Inaugurata la rassegna Pompei Teatrum Mundi nell'ambito dei progetti speciali Campania Festival. L'inviata Daniela Bisogne. Ascoltatemi e vi salverete. Pompei, notte di luna piena. Al teatro grande si rievoca la figura mitologica greca di Cassandra, le cui infauste profezie rimanevano sempre inascoltate. Da sola, sulla scena, Sonia Bergamasco, che cambia cinque abiti di altrettanti colori, simboli delle fasi esistenziali. Estremamente vicina a quello che noi viviamo, attraversiamo e patiamo. E re su Rexit Cassandra di Ruggero Cappuccio con la regia di Jan Fabre, che ipotizza il ritorno della profetessa sulla terra quale monito agli uomini. Peccatrice eterna! Torna, lei spera, per l'ultima volta a parlare agli uomini e metterli in guardia dalla morte imminente del pianeta. Con questo testo poetico per una rappresentazione ipnotica e simbolica nel rispetto del distanziamento, si è inaugurata la rassegna Pompei Teatrum Mundi. La rinascita dopo la distruzione. Pompei è un luogo che ci racconta questo attimo dopo. We are one to change.